Ottima visione di gioco qui. E c'è il gol, rimonta completata, ora sono in vantaggio. Ha beffato il portiere con un tocco sotto, gesto tecnico pregevole. Rivediamolo. Hanno scelto il momento giusto per portarsi in vantaggio. Sì, con gli avassari questo punto sarà molto difficile, per non dire impossibile, recuperare. Palla recuperata, azione interrotta. Appoggia su Breccalo. Astazio, prova! Hanno scelto il gol del palio. Bel tentativo dell'attaccante, che meraviglia. Non era facile trovare la porta da lì, è mancata un pizzico di precisione. Pubblico di casa che prova a trascinare la propria squadra che è su. Ce ne può andare adesso! I Wobby! Interrompono l'azione e recupero la palla. Qui hanno rischiato. Attenzione all'intervento dell'arbitro, vediamo se estrae il cartellino. È arrivato il cartellino giallo, dunque. Come voleva si dimostrare, Pierluigi. Buona l'idea qui. Efficace la verticalizzazione per Sensi. Palla che se fosse passata... Ci voglio gridare, lasciamo a stava. Lasciamo a perdere. 5 minuti al fischio finale con un gol che... Come ha vinto, non lo so. Può andare al cross. Lopez! Lewandowski. E possono ripartire. Manca poco al termine della gara con questi ultimi minuti che possono regalarci sorprese. C'è spazio davanti a sé. Pericolo! E c'è il gol del pari, vedremo se sarà quello definitivo. Entrambe le squadre sono stanche. Probabile che si accontentino del pareggio, visto anche quanto manca da giocare. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Si getta lì in avanti a cacciare il gol vittoria. Se l'è bevuto! Vila! E' arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale. Devono mantenere gli anni di salvi. Ancora per poco se vogliono buttare a casa questo. Ora è. Ormai il crime è fatto. Ma fa sì. E' arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale. E' arrivato il gol del vantaggio proprio nel finale. Che ha portato al gol. Bravo l'attaccante ad avventarsi sulla respinta e a crederci. Battendo il portiere. Providenziare peraltro sulla prima conclusione non poteva far di più. Per evitare il gol. Provano un ultimo risperato tentativo per pareggiare. Onchio. Intervento brutto. Vediamo cosa riuscite l'arbitro. Arbitro senza esitazioni. Ha mostrato il cartellino giallo. Sì. Molto vicino al rosso. Pericolo.